Notizie legali. Un giudice ha dichiarato l'istruttrice di aerobica Jennifer Porter accusata di omicidio troppo in forma per essere processata. Il giudice Colleen ha asserito che la sospettata con i suoi addominali scolpiti e le sue gambe muscolose è troppo sana di corpo per essere processata per l'omicidio del suo ex amante.